No all'accorpamento di scuole in provincia di Pistoia e la posizione espressa dalla FLC, il sindacato dei lavoratori del settore istruzione della CGL. Il problema, legato anche alla progressiva riduzione della popolazione degli studenti, potrebbe realizzarsi dall'anno scolastico 2024-2025. A maggior rischio sono le scuole che si troveranno ad avere un numero di alunni inferiori al 900, indicata come soglia sotto la quale dovrebbero realizzarsi gli accorpamenti. Un procedimento che vorrebbe dire un unico dirigente, un'unica segreteria e comune gestione del personale. È un rischio reale che riguarda alcune scuole, in particolare della Val di Nievole, che purtroppo potrebbero vedersi accorpate perché sono sotto al limite di 900 alunni, che è il limite previsto dalla legge di stabilità. Noi stiamo lavorando incessantemente, lo stiamo facendo già fin da gennaio scorso, perché questo non accada. Sul fronte del personale, docente e non docente, che situazione potrebbe esserci nell'anno scolastico che si aprirà dal prossimo settembre e in quello dal 2024-25, quando potrebbero realizzarsi gli accorpamenti? Allora, nel 2023-24, per quanto riguarda i docenti, non avremo grossi problemi. Insomma, l'organico c'è, sembra, dalle informative che ci hanno fatto, sia a livello regionale che provinciale, è un buon organico. Mentre invece, per quanto riguarda i collaboratori scolastici, in particolare, e il personale ATA, comunque questi mancano, continuano a mancare. Infatti, ci chiediamo come mai l'organico che viene fornito ad altre regioni è un organico che viene dato in deroga per risolvere i problemi della mancanza dell'organico di diritto. In particolare, mi riferisco ai collaboratori scolastici. Rispetto, appunto, ad altre regioni, noi abbiamo avuto un numero importante inferiore di collaboratori scolastici pari almeno a un centinaio di unità. Quindi, non ci spieghiamo come mai ci debba essere questa differenza con altre regioni e di questo noi abbiamo chiesto conto anche nelle ultime riunioni al dirigente regionale dell'ufficio scolastico regionale. Per quanto riguarda l'anno scolastico 24-25, questo dipende molto dagli accorpamenti che verranno effettivamente effettuati.